ciao amici ciao eccoci qua in esclusiva solo per voi è uno spazio che crea opportunità la notiziabilità del mondo delle notizie tu cosa vorresti trovare all'interno del metaverso dentro sono sempre io la holding del populismo facebook in questi anni ha dovuto fronteggiare parecchie accuse fatte dai giornalisti hai perfettamente ragione il vaso è rotto ha voglia raccogliere i gocci noi ti vogliamo bene universi paralleli in cui in rete i giocatori si incontrano facebook di dieci anni fa non è più quello di oggi no fact checking detto questo c'è un risvolto molto importante ti sto sudando come una bestia ci sono 38 gradi ci sono anche risvolti positivi a questo punto hai un focus maggiore di quello che ho io basta esistere nel mondo reale nel metaverso che vorrei potrei potrei andare in depressione ciao amici ciao amici ciao eccoci qua bentornati a on the meters con mattia e mattia bentornati un nuovo puntata tante cose fresche tante cose fresche settimana abbiamo lanciato la puntata infra settimanale solo audio che speriamo abbiate ascoltato sì insomma se ve la siete persa comunque la trovate solo su spotify e sulle altre piattaforme di streaming audio in esclusiva solo per voi e allora e allora e allora hai visto che ho tagliato i capelli bellissimo ho tagliato i profumi di nuovo sono sono fresco sono nuovo ma dentro sono sempre io sei sempre mi sono rebrandizzato ti sei rebrandizzato proprio hai voglia di nuovo insomma ho voglia di nuovo di togliermi di dosso la parte vecchia di me con questo ma perché devi andare devi andare da qualche parte dove non ti conoscono devi fare belle impressione ma sai volevo dare questa impressione di nuovo pur rimanendo me stesso bene no come vedi invece io non ho tagliato i capelli tu mantieni la tua sì sì per ora sì per ora rimango nel vecchio mondo nel vecchio ok non entri nell'universo del meta del del virtuale nel metaverso nel metaverso vi piace amici come come uniamo la nostra vita privata alla notiziabilità del mondo delle notizie è vero è vero non è una notizia in realtà di adesso è una notizia che forse è partita mesi fa e chi si protrae nei mesi e nei giorni si protrarrà probabilmente per i prossimi 15 anni pensa quanti quante puntate riusciremmo a costruire potremmo fare una verticale proprio su questa cosa vedete che con noi questa sera c'è mark zarkenberg chissà perché 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 ha deciso anche lui di darsi un nuovo look è vero ha deciso di cambiare nome a quello che dal 2006 7 8 a primi anni 2000 noi abbiamo conosciuto come facebook è vero il prodotto nato ad harvard per gli studenti di harvard da cui poi aveva preso il nome la società facebook ltd se non sbaglio quella è la sigla americana non ricordo bene ha deciso insomma la società di cambiare nome un po come fece google quando si differenziò con alfabet nel 2015 no diciamo che facebook rimarrà non è che che sparirà o si chiamerà in un altro modo però la società l'holding diciamo che la controlla cambia nome ha deciso di chiamarlo meta meta colè che controllerà whatsapp facebook instagram tutti e lo stesso facebook anche esatto esatto ha deciso di ripulirsi un po no ma in metaverso io mi ricordo che tu quest'estate in un tiktok hai proprio parlato del metaverso di questo obiettivo di mark perché c'era stata questa conferenza importante negli stati uniti in cui proprio zuckerberg in realtà aveva lanciato sostanzialmente il nuovo progetto in maniera definitiva dicendo che sarebbe stato il driver dei progetti di facebook ltd quindi della società per i prossimi 10 15 anni probabilmente un progetto globale quindi che verrà sviluppato probabilmente non dalla sola meta a questo punto ma in realtà anche da tante altre da tante altre realtà realtà di cosa si tratta in realtà spieghiamo è una specie da quello che ho capito tu poi di queste cose vai a sfrucugliare meglio è una specie di matrix è una specie di matrix sai che adesso il mondo del gaming non a caso ha iniziato a costruire un po questi universi paralleli in cui in rete i giocatori si incontrano interagiscono ovviamente penso magari a fortnite no che è esploso è diventato ufficialmente il gioco più giocato online di tutti ma ti ricordi qualche anno fa c'era second life sì che poi qualche una decade forse qualche anno fa avevo 15 anni in quel periodo però ve la ricordate la dsl le prime a dsl così no te lo ricordi il suono me lo ricordo mi ero anche iscritto a second life io no io no io no io sono io sono arrivato a myspace dovevi avere una scheda video molto potente non ce l'avevo non me la potevo permettere beh cosa succede cosa succede fondamentalmente nel metaverso in realtà è uno spazio che crea opportunità opportunità di incontro opportunità di dialogo opportunità di intrattenimento e perché no anche opportunità ovviamente di business perché tutto stiamo parlando di un nuovo universo beh sicuramente non lo fa no per filantropia questa cosa certo ma anche probabilmente business per per chi ci entra è chiaro chiaro ma adesso non voglio sminuire questa storia bellissima dell'universo parallelo in cui tutti diventiamo persone migliori ma diciamo che forse mark te la butto lì vuole anche spostare un po fare un po di rebranding spostare i valori perché ha avuto qualche problemino in questi anni no soprattutto negli ultimi qualche piccola caduta di stile diciamo caduta di stile qualche scandalino qualche problemuccio qualche scaramuccia che ha avuto con i paesi di tutto il mondo per esempio tanti giornalisti stanno scrivendo articoli proprio su questo argomento dicendo che in realtà il metaverse sarebbe l'ultima chance qualche sia l'ultima non lo sappiamo sicuramente una possibilità per zuckerberg di risanare quello che è un brand sicuramente in declino beh di fatto lo è facebook allora facebook rimane comunque probabilmente il social network più diffuso perché storicamente è quello più vecchio esatto più ramificato però nel frattempo le persone che si erano iscritte sono cresciute sono diventate più vecchie e quindi si spostano anche gli interessi il facebook di dieci anni fa non è più quello di oggi non so tu quanti compagni delle elementari hai trovato su facebook io li ho trovati all'inizio perché non ci ho mai più parlato no hai perfettamente ragione il problema di facebook è che oggi non è più diciamo così ingaggiante non si è adattato ai tempi non ha lanciato per esempio qualcosa di simile a tiktok per i balletti filtri o tutte queste cose di fatto facciamo la nostra solita parentesi per il pubblico che più ci ama ovvero quello dei novax è diventato di fatto il bacino dove nascono e si diffonde la holding del populismo fake news notizie populiste e questo è stato proprio uno dei problemi di facebook assolutamente sì la diffusione incontrollata di fake news ma c'è un aspetto fondamentale mi ricordo loro sono stati messi un po così all'agonia perché ti ricordi l'attacco alla casa bianca certo cioè al congresso al congresso al congresso il 6 gennaio era me la ricordo la data me la ricordo più per il vichingo esatto in quell'occasione lì c'erano state diciamo delle indagini che poi chiamiamo le indagini erano dei gruppi su facebook che facevano capire che in realtà era la cosa era preparata da tempo quindi sostanzialmente si stava sviluppando facebook era diventata in quello in quell'occasione una un luogo in cui poter organizzare un movimento di protesta che chiaramente poi ha fatto quello che ha fatto non entriamo nel non entriamo nel dettaglio esatto di quello che è successo quel giorno degli attacchi fomentati da trump non entriamo non ne parliamo non parliamo di trump però di fatto questo rimane uno dei punti critici esatto diciamo un esempio delle delle indagini e delle accuse che sono state rivolte a zakenberg e a tutto facebook per non parlare del così mercato il business dei dati no venduti da terze parti uno degli scandali più grandi quello di cambridge analitica per esempio però allora il punto è che facebook in questi anni ha dovuto fronteggiare parecchie accuse fatte dai giornalisti tanto che è nato il caso dei facebook papers è vero è vero parentesi abbiamo parlato pandora sì ve l'abbiamo detto all'inizio della puntata guardate guardate e quindi per ritornare su quel tema dei papers dei whistleblower c'è stato questo scandalo anche recentemente nato dai facebook files ovvero delle indagini fatte dal wall street journal passate da personale interno di facebook si ha divulgato questi dati che poi si è allargata oltre 17 testate a livello non mondiale sono nati facebook papers che hanno scoperchiato un vaso di pandora praticamente di problemi a cui sembra di cui sembra che i dirigenti di facebook e lo stesso mark fossero a conoscenza sì difficile pensare che all'interno di una società che fa gestione di dati chi maneggi questi dati non sia a conoscenza stessi capito è abbastanza ci sono dei problemi legati poi appunto alla dinamica sociale no c'è problemi legati alla fruizione che gli utenti di facebook hanno fatto e cosa ha portato poi questa fruizione sapriamo che ci sono stati dei casi soprattutto all'interno delle fasce d'età più giovani così che hanno portato a crisi depressive ansie patologiche questo è un problema che mi ha colpito particolarmente perché si parla spesso dei dei modelli che i ragazzi soprattutto quelli più giovani e le ragazzine seguono su instagram per cui influencer super fighe super fighi sempre abbronzati con i denti perfetti fisici della madonna con i filtri e pare proprio che attraverso un'indagine che facebook aveva condotto per capire quali erano le modalità con cui i teenagers americani si interfacciavano fosse emerso proprio questa problematica ovvero di problemi psicologici in particolare delle ragazze teenager che avevano problemi a dormire disturbi dell'alimentazione disturbi legati all'ansia e quindi avevano problemi psicologici esatto patologie legate comunque alla fruizione generale dei social network chiaramente se facebook e instagram in generale sono quelli più in mano e più diffusi è chiaro che hanno una responsabilità oggettiva questa è stata una delle notizie in qualche modo liccata nel senso che era stata un'indagine interna qualcuno qualcuno all'interno l'ha diffusa qualche whistleblower l'ha diffusa al wall street journal che poi l'ha inserita all'interno di questa di questo scandalo tra virgolette perché il punto non è tanto che facebook aveva rilevato questi 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 problemi ma tanto che li aveva nascosti nel senso che non li aveva presi in considerazione ovviamente poi quando la notizia è uscita ha detto che il campione era molto piccolo che stavano pensando a una modifica di tutte queste cose sta di fatto che certo poi quando il vaso è rotto a voi a raccogliere i cocci insomma rimettere insieme tutto quanto benissimo cioè abbiamo fatto un endorsement incredibile a facebook considerando che tutta la nostra poca notorietà si basa sui suoi social network andate su youtube ma noi ti vogliamo bene penso che io per natale vorrei comprare anche gli oculus dovresti investire in content come il nostro esatto che dicono la verità e che fanno fact checking prima di dire che non fanno venire la depressione esatto ma anzi ma detto questo c'è un risvolto molto importante che è il risvolto business diciamo della parte di metaverse che è quello su cui in realtà probabilmente lo stesso mark è concentrato perché non è uno stupido non è uno stupido non è neanche il primo che pensa di sviluppare qualcosa di nuovo relativo a una realtà virtuale come il metaverso in tutto il mondo dalla scusa è perché questa puntata questa zanzara scusa questa puntata è stata registrata al 7 agosto infatti stai anche sudando si sto sudando come una bestia e ci sono 38 gradi e avevamo una zanzara nello studio è il bello della diretta in realtà siamo a forma intera a registrare è ancora estate scusami Matt no ma figurati non è un problema stavo dicendo che in realtà tanto quanto mark quanto i cinesi in realtà stavano pensando di creare qualcosa del genere ci sono società dalla detentrice di tiktok che non mi ricordo come si chiama perché ho un nome in cinese esatto a tencent che è un altro colosso fino a epic games che in realtà è un'altra società americana quella che ha fondato appunto fortnite che ti dicevo prima che stavano pensando di creare qualcosa del genere in tanti stanno investendo in progetti di metaverso quale sarà il prossimo grande passaggio probabilmente cercare di protocollare il tutto per rendere gli sviluppi univoci creare un sistema unico dove poter poi sviluppare nuove opportunità nuovi prodotti nuove possibilità e nuove esperienze per per gli utenti insomma certo certamente poi che non sono solo gaming eh attenzione no 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 assolutamente ma io mi chiedo poi sicuramente un'attenzione particolare Mark la metterà sulla gestione dei big data e dei dati personali grande dogma e della privacy che è uno che è una delle grandi cadute che lui che facebook ha avuto in questi anni sì è difficile pensare che se oggi il problema della privacy sia stato ritenuto molto rilevante rispetto a una quantità limitata tutto sommato di dati rispetto a quello che potrebbe essere la partecipazione non so ad un metaverso no sicuramente c'è ci sono delle dinamiche che vanno un attimino chiarite insomma sì leggevo che in una delle dichiarazioni che ha fatto proprio nel lancio del cambio del nome della società e del metaverso è che ci sarà la possibilità aspetta provo a indovinare secondo me ha detto che ha garantito la privacy di tutti certo no ha detto proprio che per non so se si dice iscriversi ma per essere presenti esistere all'interno del metaverso non sarà necessario iscriversi basta esistere nel mondo reale basta esistere ora poi questa cosa poi tu hai qualche qualche no no in realtà no 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 stavo dicendo che anagraficamente sei più grande di me ma hai una mentalità molto smart quindi su questo punto hai un focus maggiore di quello che ho io ma non riesco non riesco a capire in che modo si può essere presenti in un universo parallelo senza dare insomma i propri dati anche perché io sono rimasto in qualche modo impressionato da tutta la vigenda del Cambridge Analytics no che sembra una cosa piccola perché tu dici analitica scusa perché stavo pensando agli analytics di Facebook che riescono a capire anche quante volte va in bagno in un giorno no che praticamente con una piccola fuga che poi non è stata una fuga con una piccola analisi su una piccola percentuale di utenti questi qui sono riusciti ad eleggere Donald Trump adesso proprio l'ho semplificata al massimo è spinta chiudendo una vicenda di mesi diciamo che la sinergia è più tecnologica che diretta nel senso che ok sulla base dell'analisi di big data si può fare si possono fare tante cose tra cui inquadrare dei target e quindi anche agire sull'azione comunicativa sull'influenza politica eccetera eccetera questo siamo d'accordo Cambridge Analytica parlavamo dei dati di un milione di utenti se non sbaglio venduti da una piattaforma certo certo però da lì sono riusciti a profilare tutta una serie di utenze per poi arrivare come pare sia sia successo a fare dei target mirati sulla campagna elettorale Trump contro Hillary Clinton creare dei bot che interagissero in diretta durante per esempio i comizi creare dei profili falsi che abbattessero in qualche modo l'ideologia di Hillary Clinton e poi chissà se è stato vero staremo a vedere come saranno fatti i comizi politici perché sicuramente verranno fatti anche nel metaverso se questo di fatto poi prenderà piede e si svilupperà beh sicuramente le prossime elezioni saranno un po' sotto l'occhio o nel mirino le prossime elezioni su Twitch secondo me beh può essere qualche diretta su Twitch degli streamer Biden streamer se hai bisogno dei voti di quella fascia lì 104 anni alle prossime elezioni però sicuramente potrà streamare Biden abbiamo visto che si è addormentato alla COP26 eh vabbè ho capito ne parliamo nella prossima puntata quando parliamo di energie rinnovate ma poverino tra il fuso orario e tutto non è mica Greta che ha 13 anni e arriva in barcavela questo povero uomo è partito 12 ore di fuso orario come dicevi tu a 120 anni pure lui l'hanno confermato fino adesso gli hanno tirato su un lifting però voglio dire è vero comunque rimanendo nel tema nel tema metaverso diciamo qualcosa anche di positivo esatto ci sono anche stavo per dire ci sono anche risvolti positivi o almeno parzialmente positivi ci siamo sempre lamentati che Facebook in Europa in generale non tanto in Italia però nei mercati non gli USA non pagasse le tasse non desse lavoro eccetera eccetera i big i big dell'e-commerce esatto i big i cattivi i cattivi ha già annunciato possibili fino a 10-15 mila assunzioni in Europa per lo sviluppo di questo progetto pare anche abbia già investito in associazioni non profit in realtà di nerd che si associano per cercare di sviluppare e trovare soluzioni tecnologiche pare adesso non si capisce no no ma sicuramente le buone azioni premiano sempre sì ma ho letto erano cifre tipo 20 milioni tra i 20 e 50 milioni di dollari in tutto quindi parliamo di briciole delle briciole delle briciole delle briciole no no però come diceva un mio professore allo Iulma essere etici conviene anche economicamente sì o almeno sembrarlo beh ma sì ci investi 40 miliardi che per te sono come per me investire in smarties però di fatto hai fatto una buona azione ma ascolta se tu cioè a me vabbè è anche un po' il titolo in realtà di questa puntata cioè il metaverso che vorrei cioè tu cosa vorresti trovare all'interno del metaverso per dire ok ci entro beh bella domanda non ero preparata in questa cosa sicuramente vorrei beh la parte dell'intrattenimento non mi spiacerebbe posso dirti la verità tipo tipo i concerti concerti live io mi immagino una volta io non li ho ma li vorrei comprare avevo provato gli Oculus sempre di Mark che anzi se ci vuole omaggiare sì ma non dire qualcosa che esiste già no ma non esiste ancora perché con gli Oculus avevo provato qualcosa della realtà aumentata io mi immagino partecipare a un concerto siccome ho partecipato a delle silent disco e ho partecipato a dei concerti unendo le due cose mi metto gli Oculus e partecipo a un concerto live e tu sai perché lo dico perché noi da tre anni stiamo aspettando il concerto di Max Pezzali a San Siro abbiamo comprato i biglietti nel 2020 c'è stata la pandemia e l'ha rimandato 2021 l'ha rimandato aspettiamo con ansia il 2022 prima o poi però ci pensi che potremmo vedere il concerto di Max Pezzali attraverso gli Oculus vedi io per esempio la parte dell'intrattenimento l'ho valutata anch'io ma ho sempre pensato che la grande opportunità potesse arrivare in realtà all'interno per esempio del mondo del lavoro cioè l'idea di costruire un contesto lavorativo totalmente digitale totalmente virtuale in realtà potrebbe essere veramente il next step del remote working secondo me io non credo di farcela non credi di farcela io non credo nello smart working ma ascolta cioè tu pensa se invece di essere cioè tu sei a casa ma in realtà hai comunque la stessa possibilità di connessione sociale con le altre persone tranne toccarle ovviamente e magari mettendoci anche qualcosa di più un tocco creativo piuttosto che per esempio senza doverti cambiare che è quello che facevi quando stavi a casa in smart working la metà superiore che facevamo tutti la metà superiore esatto ma solo durante le video calls la stessa cosa però in realtà tu seduto al tuo tavolo sei in continua e perenne connessione cioè devi evitare le call quindi puoi parlare costantemente cioè sei iper connesso ovviamente secondo me questa prospettiva non so mi sembra che vada incontro a quello che è già un trend che è iniziato che è quello dello smart working del remote working insomma del lavoro del localizzato via ma sì ma sicuramente questo trend è partito ed è stato accelerato in questi mesi e questo non si discute l'idea di uno smart working totale a me non è mai piaciuta ma perché io l'ho vissuta malissimo la pandemia chiuso in casa non potevo uscire io amo andare in ufficio questo sia chiaro io ho chiesto al mio capo posso andare in ufficio perché chiaramente come tutti noi dobbiamo rispettare e lui mi ha detto no ma giustamente perché in questo momento non si può però anch'io sono un amante della presenza fisica però ti dico già che devo stare a casa preferirei tutta la vita rimanere iper connesso con il mio team con le altre persone per poter comunque interagire in qualche modo secondo me neanche essere più produttivo è un'idea insomma potrebbe essere un altro dei risvolti positivi del metaverso ma no ma è vero ma sicuramente integrando le due allora tu sei per il totale io sono per l'integrazione tra le due cose che però ci può stare nel senso che io non non mi immagino tra dieci anni a fare tutto a casa potrei potrei andare in depressione però un'integrazione quella sì quella sì sì comunque vi chiederemo cosa vorreste voi nel vostro metaverso sulle storie nelle storie di instagram e anche di facebook si può votare anche su facebook certo ok perfetto certo che sì così per capire tra l'altro tra l'altro si può anche votare ho scoperto te lo dico adesso su spotify su spotify noi possiamo lanciare dei sondaggi quindi amici sicuramente lo faremo noi lo diciamo adesso poi vediamo se riusciamo a farlo ma penso di sì lanciamo un sondaggio anche su spotify quindi se ci state ascoltando da qualche parte sul vostro telefono dovreste trovare il banner esatto per poter votare nel metaverso che vorrei entro in pass e bevo grey questa battuta te l'avevo fatta oggi volevo farla io c'era anche quella su sasha grey non mi ricordo come era chissà cosa fa sasha grey nel metaverso beh sicuramente non la porno star perché si è ritirata ci vediamo settimana prossima ciao amici ciao